Anteprima RIC e TTA RIC e TTE simpatiche fatte insieme. Preparazione Condimento Taglio 3 spicchi d'aglio senza buccia e 150 grammi di pomodori tipo ciliegino. I pomodori tipo ciliegino. Li taglio a metà. In una padella verso 100 ml di olio d'oliva extravergine a fuoco basso. Quando l'olio è caldo aggiungo l'aglio facendolo rosolare per un minuto unendo successivamente i pomodorini ciliegino tenendo sempre il fuoco basso. Cottura dei pomodorini per 5-6 minuti circa a fuoco basso. Peperoncino quanto basta 6 filetti di acciughe sott'olio. Passati 6 minuti di cottura a fuoco basso aggiungo 250 grammi di passata di pomodoro. Sale grosso quanto basta. 1 kg di bieta da taglio già lavata precedentemente. Passati 6 minuti di cottura del condimento aggiungo la bieta da taglio cuocendola a fuoco basso per 30 o 40 minuti circa girandola di tanto in tanto coprendola con il coperchio. ultimata la cottura la verso in una terrina per servirla calda. A Taiwan A台灣 A Taiwan A Taiwan A Taiwan A Taiwan A Taiwan A Taiwan Grazie a tutti.